benvenuti ci troviamo in via portazza alla parte finale della via proponiamo questo appartamento posto di un primo piano in vendita è una casa tipo di 50 metri quadri chiaramente va rivista in tutte le sue parti quindi iniziamo con la vista il riscaldamento è autonomo è una casa ideale per una giovane coppia o un single qui abbiamo l'unica camera da letto a disposizione abbiamo un balconcino l'aria condizionata la cassetta di sicurezza quindi andiamo a vedere l'affaccio l'esposizione è un est sud quindi sud est come vi dicevo siamo nella parte finale della via l'accesso al palazzo è consentito o con lo scooter o a piedi ovviamente la macchina si lascia nella strada principale rientriamo nell'appartamento di qua possiamo apprezzare al meglio la dimensione della camera dell'unica camera da letto i pavimenti sono in graniglia la genovese alla sinistra perdona abbiamo la dispensa sempre comoda qui siamo appunto dall'ingresso dove avevamo iniziato col video abbiamo il bagno piastrellato con la vasca ora ci dirigiamo verso la cucina una cucina particolarmente vivibile come si può vedere ovviamente questa casa va rivista con gli occhi di un progetto di ristrutturazione integrale apriamo la finestra e questo è quello che possiamo ammirare dalla finestra della cucina quindi facendolo riepilogo veloce rientriamo nell'appartamento la cucina con questo da questa inquadratura particolarmente vivibile come vi dicevo l'ingressino alla nostra sinistra il bagno con la sua vasca la dispensa ed infine appunto la camera dall'unica camera da letto e terminiamo la visita dall'affaccio del balconcino ci troviamo alla fine della via portazza grazie 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 grazie